Se vi servono crediti passate dal link in descrizione e con il codice MENZMR avrete subito un 5% di sconto Salve a tutti ragazzi sono sempre io MENZ, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Siamo ritornati qui con la carriera allenatore con l'Inter e oggi ragazzi iniziamo la nuova stagione Vi ringrazio tantissimo signori per il supporto dell'episodio precedente Forse l'episodio più bello veramente mai registrato qui sul mio canale È successo veramente di tutto, finale di campionato e finale di Coppa Italia Per chi se lo fosse perso ve lo lascio qui a schermo e sotto in descrizione ragazzi Allora partiamo subito con un po' di cose, prima di tutto ragazzi saluto e vi invito a seguire un profilo Instagram Vi lascio il profilo, il link del profilo qui in descrizione Il profilo si chiama calciomercatoofficial-basso Vi saluto anche i proprietari che sono Michele e Cristian Mi raccomando ragazzi sotto in descrizione c'è il link, seguiteli e ditegli che vi ho mandato io Vi annuncio, vi dico, vi propongo anche di arrivare a 1200 mi piace Perché il prossimo episodio esca questo giovedì ragazzi Vi chiedo così tanto mi piace perché ho un esame e faccio fatica veramente a caricarlo Ma se arriviamo a 1200 mi piace ragazzi ve lo carico giovedì Vi dico questa news, per essere salutati nel prossimo video dovete condividere questo video ragazzi E mandarmi un selfie simpatico dove vi fate vedere la condivisione Per me è un'idea carina e così magari vi invito anche a condividere il video e a espandere il motto sempre sul pezzo E quindi spanderei il mio nome Proprio oggi saluto Senti selfie con la condivisione e inviatemela sui social Instagram e Facebook sotto il link in descrizione Allora ragazzi oggi episodio altrettanto importante perché dobbiamo fare il calcio mercato per la nuova stagione Allora abbiamo veramente molte settimane prima della finale di Supercoppa Italiana con la Lazio E prima anche dell'inizio del campionato abbiamo molte settimane devo dire Per rinforzare la squadra in modo tosto per avere appunto una buona squadra per le competizioni europee Probabilmente venderò molti giocatori, vi faccio vedere i ragazzi che ho messo in vendita Allora ho messo Di Gennaro, Laxalt, questi sono tutti quelli che sono tornati dal prestito Metto D'Ambrosio, Palassio, Biabiani Metto anche Jovitic e Perisic perché sono gli unici giocatori con cui posso far cassa Semplicemente per questo e probabilmente Perisic lo utilizzerò per acquistare qualche giocatore di spessore Direi di partire subito con i nomi pesanti, decisamente pesanti Per poi passare ai difensori Quindi qui abbiamo bisogno di esterni sinistri Abbiamo bisogno di esterni sinistri e direi di andare un attimo cauti su Depay 36 milioni, proviamo con 18 milioni Proviamo con 20 milioni per Depay Per quanto riguarda i COC ragazzi, io ero interessato a Goetze come prima scelta E poi Kevin De Bruyne Quindi adesso andrei a fare qualche offerta per Goetze Proviamo ad acquistarlo So che chiede tanto sicuramente Faccio delle controfferte Jovitic più 20 milioni per Goetze Andiamo subito alti per De Bruyne 35 milioni Quindi si direi subito pesanti su De Bruyne e Goetze E con gli altri ci andiamo su dietro Ora Rheim Sterling Contattiamo il City Sempre E cerchiamo di fare una buona offerta Inserendoci anche Perisic Con 18 milioni Ora per quanto riguarda i CC Pogba sicuramente per Pogba dobbiamo iniziare a vendere Io per i CC aspetterei un attimo ragazzi E andrei un attimo sugli esterni Tipo Deulufeu Volevo acquistare Deulufeu Scambiandolo con magari Biabiani Più 6 milioni Per Douglas Costa mi chiederanno sicuramente tantissimo Però Ci proviamo ragazzi Sempre Biabiani che vale 9 milioni Più 15 Passiamo Ai difensori Mi avete consigliato in tantissimi Varane E la Port Ora proviamo ad acquistare la Port Sembra fattibile Quindi io vado con 18 milioni per la Port Varà in tanto Proviamo anche lui 18 milioni Ma Non credo che andrà bene Anzi Poi Direi Yet Vai 11 milioni Facciamo 8 milioni e 500 Facciamo 8 milioni e 500 Offerta giusta secondo me E poi mi muoverei anche per Kurt Zuma Ho bisogno di un difensore ragazzi Non dovrebbe costare molto Kurt Zuma Quindi io direi 8 milioni E mi sono ricordato adesso che Ho anche un buon Andreoli da mettere in trattativa Chi lo sa Magari accettano Mentre Danilo Eh ragazzi Danilo Danilo è tosta 42 milioni vale Guarda lì Proviamo Carvall Secondo me 15 milioni vale Quindi io faccio un'offerta Di 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 Mamma mia C'ho una paura di rischiare 11 milioni Allora Palacio abbiamo detto che se n'è andato Sì Palacio ha lasciato la squadra dopo aver raggiunto un accordo con il Verona Offerta per il trasferimento di Mauro Riccardi Barcellona Oh mio Dio Io per Riccardi ragazzi la tento 100 milioni Se mi date 100 milioni Andiamo con ordine Andiamo con ordine Partiamo con le offerte accettate perché Yetvai ha accettato l'offerta Diamogli quello che vuole Giocatore per il turn over no Giocatore importante prima squadra Allora Allora per la port vogliono un po' di più ragazzi Vogliono un po' di più Sarebbe un difensore titolare 22 milioni 22 milioni più Andreoli Leverton è interessato al Bia 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 Ni Però vuole arrivare a 17 Proviamo con 8 milioni più Bia Bia Ni Magari Varane ragazzi non ci arrivo per Varane Offerta troppo bassa per Sterling Siamo interessati al giocatore che ci ha 55 milioni 55 milioni Perisic 22 milioni Più Perisic De Bruyne Il suo valore è più alto Se io ci aggiungo anche Jovetic Più 35 milioni Jovetic più 35 milioni Ragazzo mio E' un'offertona Allora offerta per Danilo D'Ambrosio Datemi per l'amore del cielo O almeno quello che vale Per l'amore di Dio Carval 31 milioni Mamma mia Allora Jedwai ha accettato l'offerta E quindi Jedwai ragazzi Il primo acquisto Sono molto contento di questo Il primo acquisto dell'era Menzo della nuova stagione Ha accettato anche Douglas Costa 20 milioni Se riaffriamo il contratto Giocatore importante Prima squadra Neymar 150 Porca puttana Sono Uno dei pezzi La ringrazionata per l'Italian La preghiera di modificare La sua Boba fanculo va Che te De Bruyne Ti metti a rompere i coglioni Offerta del trasferimento Per Condogbia Ragazzi Allora io fisso Il prezzo di Condogbia A 40 milioni Griezmann Si è infortunato per 8 settimane Ma porca puttana Porca Porca Allora Aspetta un attimo Offerta di mercato per Condogbia E Icardi O il Paris Saint Germain Ragazzi Paris Saint Germain Qui aumento anche Vado a 50 milioni Per Condogbia Sganciate questi 50 E no Rifiutiamo Questa offerta Per Icardi Offerta troppo bassa Per La Port Ragazzi 48 milioni Per La Port È infattibile Tanto Deulofeu Ha accettato Troviamo I suoi Il suo centello Bonus per gol Giocatore chiave Prima squadra E attendiamo Magari anche L'offerta Di Douglas Costa Quindi Abbiamo venduto Danilo D'Ambrosio Nel frattempo Il Manchester United Ha accettato Un'offerta Di 23 milioni Più Jovetiz Giocatore chiave Prima squadra Saresti Ovviamente Sempre il titolare E De Bruyne È tosto Da comprare Ragazzi Allora ragazzi Deulofeu Ha accettato Allora ragazzi Io accetto Deulofeu Non accetto Douglas Costa Accetto Deulofeu Perché Perché È più giovane E cresce Decisamente Molto di più Di Douglas Costa Ha comunque 22 anni Secondo me È decisamente pronto E quindi Altro acquisto Gerard Deulofeu Ottimo Direi che Sulla fascia d'asta Siamo quasi a posto Se faccio accetta Mi tolgo Veramente Aspettiamo Douglas Costa Aspettiamo Ultima offerta Per Sterling Ragazzi Persic Più 30 milioni 94 milioni Per De Bruyne Ragazzi È decisamente Troppo Varane Laporte Andiamo a vedere Un attimo Difensori centrali Che potrei Acquistare Pesantemente Su Zuma Quindi 13 milioni Magari Un CC E un COC E poi passeremo Agli attaccati Con un po' più di calma Vediamo che probabilmente Prenderemo Depai E se ne andrà Iovetich Abbiamo bisogno Di un COC Potrebbe essere Ross Barclay Ma anche Ericsson Quindi io andrei a fare Un po' di offerte Per tutti 30 milioni Per Barclay Proviamo 22 82 Potrebbe comunque Crescere 24 85 Goetze Sicuramente Mi chiederanno Un puttanaio Quindi Andiamo con 35 milioni Per Goetze Proviamo anche Ericsson Mi chiedono Tantissimo Quindi anche Kurt Zuma Ha accettato Un'altra Destinazione Potrei provare Ad acquistare Sule Proviamo 10 milioni Meglio Sterling O Depai Allora Abbiamo delle offerte Di mercato Per Manai Ragazzi Prestito Per un anno Accettiamo Il prestito Dell'Empoli Adesso volete C'è la Noglu No cari 53 milioni Dato che fate I fenomeni Con De Bruin Ragazzi Depai Ha accettato La nostra offerta Ragazzi Depai E' un nuovo Giocatore Dell'Inter E salutiamo Jovetic Che era Nella Contropartita E quindi A sinistra Ragazzi Abbiamo il nostro Giocatore Titolare Che è Memphis Depai Quindi ora Ci possiamo Dedicare Al resto Del campo Abbiamo Un'offerta Per Sule Qui Andiamo Da Sule E proviamo Con 11 milioni Anzi 12 Goetze Mi hanno chiesto Troppo Offerta Rifiutata Per Ross Barclay Vorrei provare A prendere Un centrale Un po' Più Tosto E dopo Abbiamo Comunque Felipe Anderson Mares Cialanoglu Mi serve Un attaccante Assolutamente Mi serve Un attaccante E mi serve Un attaccante Non un C.O.C. Ma un attaccante E anche un C.C. Eh sì Decisamente Decisamente Ragazzi E magari Un difensore Centrale Da fargli fare Il titolare Al posto Di Murillo Se faccio Un'offertina Da 18 milioni Per stones Più Andreolli Magari Sono pure Interessati Ho bisogno Un attaccante Tosto Mi avete consigliato Paco Alcacer Proviamo a contattare Il Valencia Per acquistarlo La squadra Proprio giocatori In quello Dovremo pagarlo Molto Per averlo Abbiamo Tante possibilità Proviamo ad acquistare Calleri Ragazzi 7 milioni Abbiamo Martial Non mi dovrebbero Chiedere molto Andiamo con 9 milioni Andiamo a fare La spesa pure Dal Manchester United E poi Mi avete consigliato In tantissimi Di Bala Di Bala Che costa parecchio Devo dire Molto Anzi 19 milioni Adesso ragazzi Abbiamo Abbiamo Deulofeu E De Pai Da allenare Ma Deulofeu Sta già per salire All'80 Ragazzi Sta già per salire All'80 E' un mostro Deulofeu Ma soprattutto E' un mostro Pure De Pai Ed anche lui Quasi ha Quanto ha di resistenza Boni Madonna ragazzi De Pai è un fenomeno Un mostro Stiamo facendo Un ottimo mercato Ragazzi Veramente un ottimo mercato Dai ragazzi Salite Cazzo Salite Offerta per Il trasferimento Di Jokshou No Decisamente no Rifliutiamolo Jokshou Ha il terzino sinistro Credo più forte che c'è Dopo Forse Gaia Gli sta davanti Allora Hanno rifiuto Tutte e tre Gli attaccanti Sto per fare La passia Sto per fare Una passia Ragazzi Pogba Gli offro Perjic Perjic Più 30 milioni 51 milioni Per Dibala Ciao Dibala Sono curioso Di vedere Quanto mi chiedono Per Pogba Sono interessati A A Perjic Ragazzi 40 milioni Più Perjic Se vendo Ragazzi Se vendo qualcuno Mi compro Pogba E forse anche Paco Alcacer 32 milioni Per Stones E 21 per Martial Allora Ragazzi Per Stones Mi dispiace Ma faccio Veramente Molta fatica Ok ragazzi Ci stiamo avvicinando Alla fine Di questo episodio Riffiutiamo Sempre Mauro Riccardi Fatemi sapere Cosa ne pensate Per il momento Di questo Calcio Mercato Purtroppo ragazzi Se non vendo Qualcuno Pogba Non riesco a comprarlo La squadra Valencia Ha espresso Di aspettarsi 62 milioni Per Paco Alcacer Madonna ragazzi Ma mi sembra Veramente esagerato Quindi io vado Di 10 milioni Più Perjic Ed è l'ultima offerta Che faccio A Paco Alcacer Per quanto Possa essere forte Questo ragazzo Non credo Ne valga Assolutamente La pena Ok direi Che questa è la formazione Titolare Ragazzi La salviamo Dopo al posto Di Cialanoglu Andrebe Griezmann E a destra Sempre De Luffeu Secondo me Per ora Ottimo mercato Ragazzi Ma mi raccomando Non finisce qui Prossimo episodio Partita con La Lazio Di Supercoppa E Successivamente Continuiamo Con il calcio Mercato Che sta quasi Per concludersi Ma io più o meno I miei colpi Li sto facendo E sono praticamente A posto Fatemi sapere Ragazzi Sotto nei commenti Come vi sembra Questo mercato E Cosa pensate Diciamo Di questo mercato Continuatemi A consigliarmi Altri giocatori Che vi potrebbero Piacere nella mia squadra Secondo me Siamo quasi a posto Forse un altro Centrale Difensivo Ragazzi Terzino destro Abbiamo Florenzi Con Yedvai Sicuramente un altro Difensore centrale A sinistra Siamo a posto A centrocampo Io prenderei Un altro Big nome Sinceramente Da fiancarati Elements O a Condogbia Mentre qui davanti Secondo me Mi serve assolutamente Un altro attaccante Di spessore Quasi Quindi sotto nei commenti Qualche attaccante E forse anche un portiere Direi di sì Per il resto Basta così Arriviamo a 1200 mi piace Per il prossimo episodio Che uscirà Magari giovedì Se purtroppo non ci arriviamo Lo carico domenica Ragazzi Perché ho un esame Devo studiare Spero che questo episodio Vi sia piaciuto Ragazzi Lasciate un mi piace Un commento Un consiglio Stiamo facendo una squadra Veramente Veramente tosta Noi ci vediamo Ad un prossimo video Un saluto da mezzo Alla prossima Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti